I miei migliori amici sono i due cavalli. Da stasera 25 settembre fino al 6 ottobre, il Napoli Teatro Festival mette in scena la sua preziosa coda autunnale con sette spettacoli di variegata concezione, che concludono l'edizione 2012 della rassegna internazionale diretta da Luca De Fusco. La riapertura di questa sera è al Teatro Mercadante con Antigone, un lavoro commissionato dal Festival a Valeria Parrella con la regia dello stesso De Fusco che, ispirandosi alla tragedia di Sofocle e al mito greco, riflette sul diritto all'eutanasia nella società contemporanea. Notevole attesa per la nuova scrittura di Enzo Moscato che debutterà giovedì 27 al Teatro Nuovo. Ta Caità è un omaggio alla seconda figlia di Edoardo De Filippo, morta in giovane età, che diviene metafora di quel breve evento di rinnovamento che carezzò Napoli nel dopoguerra. Da venerdì a domenica al San Ferdinando il progetto di Antonio Latella cede il pianto in queste lacrime, uno studio sulla sceneggiata napoletana sviluppato in collaborazione con Linda Dalisi. La programmazione autunnale del festival comprende ancora la grottesca odissea napoletana di Gabriele Russo, O Papa Rascianno di Petito diretto da Laura Angiulli e Lina Polinà, spettacolo di musica e danza di Lina Sastri. A conclusione il 6 ottobre al San Ferdinando il gruppo di ragazzi di Arrevuoto metterà in scena la commedia satirica Il Rubacuori dell'Ovest.